Amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati sul canale 80, oggi siamo a Cantiano, a una manciata di chilometri dai confine con l'Umbria, siamo appena a 4 chilometri dal confine. Oggi siamo qui per una conferenza stampa con tutte le autorità competenti dedicata alla presentazione del depuratore cittadino devastato dalla terribile alluvione del 15 settembre dell'anno scorso anno, quindi oggi verrà ripristinata la funzione di questo depuratore, andiamo a conoscere un po' i suoi protagonisti e vedere un po' che cosa ci dicono. Siamo con Andrea Pierotti, presidente di Marche Multiservizi. Presidente, diciamo un bel segnale di ripresa con questa inaugurazione. Sì, abbiamo voluto dare un segnale proprio di questo tipo, insomma, un'inaugurazione formale di un depuratore che rappresenta un momento di ripartenza ma anche un punto fermo per il futuro. Quindi in Pompamagna facciamo una conferenza stampa, inauguriamo il depuratore che è stato ripristinato completamente dopo l'alluvione del settembre 2022 e credo che in questa situazione Marche Multiservizi abbia dimostrato la sua capacità, la sua forza, la sua resilienza, cosa che è stata riconosciuta da tutte le amministrazioni che hanno purtroppo subito questo terribile evento. Da subito l'azienda si è messa a disposizione con i suoi uomini per ripristinare un minimo di situazioni, insomma, di igiene minimali appunto. Ma ora oggi abbiamo ripristinato in maniera completa ma siamo pronti anche ad andare oltre, fare in modo che con gli interventi e con le somme che verranno messe a disposizione della struttura commissariale potremmo, insomma, non dirò che mettere in sicurezza in maniera completa da questi eventi però far sì che le reti, gli impianti di questo territorio, perché non parliamo solo di Cantiano ma parliamo di un territorio più vasto, insomma, possono essere messi a sicuro rispetto ad altre possibili situazioni di questo tipo che si dovessero verificare nel futuro. Su Cantiano ho realizzato interventi per il valore di oltre un milione di cui quasi la metà proprio sul depuratore. Altri interventi hanno riguardato appunto fognatura e il settore idrico potabile. Per un totale di 5 milioni e 200 per tutto il territorio, cioè i comuni di Pergola, Serra, Frontone e Cagli, insomma, siamo intervenuti subito, ripeto, mettendo a disposizione intanto delle risorse, anticipando le risorse, riprendendo i materiali, facendo la progettazione e quindi questo, insomma, ripeto, è stata la dimostrazione di una capacità di reazione dell'azienda che è stata riconosciuta dai territori. Per cui oggi vogliamo, insomma, ricordare questo momento che è tragico ma è stata anche un'occasione per far vedere che il territorio è resiliente, l'azienda che lo rappresenta in questi settori altrettanto e che per il futuro si può fare ancora qualcosa di più. Siamo con il Sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Sindaco, intanto una grande giornata oggi. Possiamo già prevedere qualche numero o comunque qualche intervento per la prevenzione futura? Sì, ecco, quella di oggi è una giornata importante in cui ridoniamo alla comunità un servizio essenziale legato alla depurazione delle acque che torna a essere pienamente funzionale dopo quel tragico evento del 15 settembre. Ecco, con una prospettiva che guarda con fiducia al futuro, ecco, stiamo collaborando con la struttura commissariare legionale per cercare di accelerare la messa a terra delle risorse per poter mitigare il rischio e quindi mettere in sicurezza e dare certezza che quanto è accaduto non possa riaccadere, soprattutto anche come ringraziamento a quanti hanno voluto che Cantiano non si fermasse, a quanti hanno riaperto, a quanti sono ritornati nelle proprie abitazioni. Quindi, ecco, dobbiamo accelerare su questo intervento di pulizia dei fiumi e creazione di opere spondali che possano mettere in sicurezza il territorio. La situazione al momento è, diciamo, ripristinata, si può dire al 100% oppure c'è ancora qualcosa da fare? Diciamo che il 100% lo hanno fatto i cittadini nelle attività di impresa. Avevamo 60 attività di impresa che sono tutte riaperte, abbiamo parecchi nuclei familiari che sono rientrati nelle proprie abitazioni. Quello che manca ora sono i danni infrastrutturali legati al patrimonio pubblico, mi riferisco a strade, ponti, pubblica illuminazione. Su questo abbiamo la fortuna di contare su risorse che, seppur parziali, sono già stanziate. Quindi, ecco, quello che stiamo chiedendo è di poter gestire un piano coordinato di rigenerazione del comune urbana che possa mettere in fila e affrontare in maniera organica e coerente tutti i vari aspetti di ripristino. In maniera, ecco, appunto, per spendere in maniera corretta le risorse pubbliche e non solo sistemare quello che si è rotto, ma magari portare delle migliorie sia in termini di sicurezza ma anche di innovazione tecnologica e urbanistica sul paese. Oggi, con questa inaugurazione, credo che sia un segnale importante di rinnovamento, di ripartenza. Abbiamo rimesso a nuovo il depuratore del capoluogo e quindi credo che sia un primo intervento che è costato circa 530 mila euro, che fa parte degli interventi di sommurgenza che in questo comune abbiamo speso circa più di un milione di euro. Non a caso ho parlato di sommurgenza perché questi sono stati i primi interventi che assieme al vice commissario Babbini e al commissario Acquaroli abbiamo definito sul territorio, che riguardavano circa 5 milioni di euro erotti per i cinque comuni alluvionati. A Cantiano, dicevo, abbiamo speso circa un milione di euro. È un primo intervento chiamato proprio di sommurgenza perché erano quelli che erano destinati a dare i primi sollievi ai disagi creati dall'alluvione ma ovviamente a questo deve seguire un intervento importante che sono gli interventi strutturali che dobbiamo fare nei cinque comuni e in modo particolare a Cantiano ma diciamo che questo necessita di risorse importanti perché grossomodo diciamo che abbiamo speso 5 milioni, 6 milioni di euro sono già stati assegnati per il prossimo intervento nel comune di Cagli per il depuratore ma oltre a questo c'erano altri 30 e passa milioni di euro per sistemare tutti gli interventi, tutte le opere infrastrutturali che sono fognature e depurazioni in modo particolare ma anche acquedottistiche sul territorio alluvionato. Diciamo che sono interventi che richiederanno alcuni anni di lavoro oltre che di risorse importanti perché richiedono progettazione ed esecuzione tale per cui quello che è successo non dovrebbe più succedere quindi diciamo che la progettazione sarà destinata e dedicata a fare in modo che le interventi infrastrutturali siano definitivi. Entro fine anno c'è la scadenza per la presentazione delle domande che poi come lei sa dovranno essere tutte rendicontate alla protezione civile dopodiché ci sarà il fatto proprio economico e finanziario che i danni, la seconda trascia di danni verrà ristorata alle famiglie, alle imprese che sono state colpite. Sicuramente la struttura commissariale sta facendo il lavoro della ricostruzione con questi 400 milioni e cercheremo di metterli a terra il prima possibile in base alle procedure e anche alle esigenze dei comuni, dei professionisti che lavorano a queste fasi. E poi negli anni prossimi sicuramente bisognerà lavorare ad un approccio differente sulla manutenzione del territorio, meno ideologica, più pragmatica e che sappia rimettere un territorio così bello ma molto complesso come quello del centro Italia e delle Marche in condizioni di essere oltre bello sicuro. Ci è stato consegnato da chi è venuto prima di noi un territorio straordinario credo che debba essere un obiettivo, quello nostro, di riconsegnarlo a chi verrà dopo di noi altrettanto bello e sicuro. Siamo con Stefano Babini, l'ingegner Babini, vice commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione terribile del 2022. Diciamo l'uomo dei numeri. L'uomo dei numeri, l'uomo che gestisce i 400 milioni che ha dato il governo anticipando un po' le esigenze di questo territorio e ribaltando in senso positivo un po' tutti gli schemi nell'ottica di poter essere veramente vicino alle popolazioni permettendo di erogare i rimborsi non ci dimentichiamo che i primi 5 mila e 20 mila euro rispettivamente ai cittadini e alle imprese furono erogati dopo circa 5-6 mesi, furono dati distanziamente ai comuni per la distribuzione che poi è andata avanti con alterne fortune, però essendoci soldi disponibili il discorso è stato completamente diverso. E quindi sì, abbiamo fatto fino a questo momento, abbiamo immesso sul territorio circa 70 milioni di euro più altri 20 milioni per gli interventi di somma urgenza. Siamo pronti con una cifra importante accantonata superiore ai 100 milioni di euro per i ristori. Non appena si concluderà questa fase di ricognizione al 31 dicembre, poi ci saranno 45 giorni per l'istruttoria da parte dei comuni e poi il 2024 si apre con il discorso importante delle opere strutturali con il piano del commissario che supera i 100 milioni di euro che andrà in approvazione definitiva fra qualche giorno non appena avremmo completato le fasi di rilievo aereo per attualizzare il territorio a tutti gli interventi che sono stati fatti e quindi poter aggiornare i modelli idraulici. Aggiornare mi rivolgo in alto perché stiamo parlando di voli aerofotogrammetrici, rilievi LIDAR e quindi poter avere una fotografia del territorio utile per la programmazione dei lavori che si andranno a fare. Amiche e amici telespettatori, abbiamo appena assistito al taglio del nastro davanti al nuovo depuratore restituito alla comunità di Cantiano. Abbiamo visto quanto è stata importante la vicinanza di tutta la filiera istituzionale affinché Cantiano non rimanesse sola. E oggi è un piccolo segno di rinascita con questo depuratore. Amiche e amici continuate a seguire Rossini TV, canale 80, vi portiamo sempre nei luoghi più interessanti della nostra provincia. Grazie a tutti.